Cari amici, a nome di Fadoi volevo ringraziare tutti voi per il lavoro svolto in questi anni, che ci ha reso orgogliosi come internisti e ha reso la nostra società scientifica un interlocutore credibile per le istituzioni. Insieme, nonostante il periodo veramente difficile, siamo riusciti a portare avanti numerose attività formative, anche grazie a metodiche innovative. Inoltre, abbiamo portato avanti numerose attività di ricerca ed è nostra intenzione nel 2023 continuare su questa via, cercando però sempre di migliorare, implementando sia la ricerca sia la formazione, in modo da andare incontro meglio alle vostre esigenze. In questo senso abbiamo pensato di premiare la fedeltà di tutti i nostri soci, proponendo uno sconto del 10% per chi rinnoverà entro il 31 di gennaio, in modo che ognuno di noi possa usufruire di tutte le iniziative Fadoi fin da subito. Finisco augurando a tutti, a tutti noi, un 2023 sereno e ricco di soddisfazione.